Alla fine ce l'ha fatta a fuggire e ha pensato di chiedere aiuto a dei medici correndo al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Per 13 anni una donna pakistana di circa 40 ha subito le angherie del marito che la riempiva di botte e non le permetteva di uscire di casa. Non ce la faceva più, tanto che la donna, grazie all'aiuto di un parente che parla l'italiano, è riuscita a scappare. In ospedale la donna è stata curata e aiutata a raccontare quanto le è accaduto in questi anni alle forze dell'ordine che stanno indagando. Per lei forse l'inizio di una nuova vita, per ora è sotto tutela in attesa di essere trasferite in una struttura protetta.